buongiorno ciao a tutti e bentornati sul canale bentrovati spero abbiate passato queste festività tranquilli con le persone a cui volete bene siete rilassati noi siamo rimasti a casa abbiamo fatto pasqua con mia mamma mia suocera mia cognata mio cognato è sceso anche pietro quindi abbiamo fatto una pasqua tranquilla ieri poi abbiamo fatto una piccola grigliatina faceva un freddo fuori però abbiamo dovuto mangiare fuori perché lucia voleva mangiare fuori e quindi eccoci ritornati alla normalità abbiamo come vedete ricambiato la location perché i ragazzi sono a casa da scuola paola casa dal lavoro quindi gente che va gente che viene mi sono rintanata nella mia craft room e oggi volevo farvi vedere il mio acquisto di makeup non compro tantissimo makeup o fondotinta becchi cioè non sono una molto attenta mi piacciono mi piace avere un po di cosine ma non compro spessissimo makeup però grazie a due amiche che mi hanno invogliato e sto parlando di elisabetta r che aveva fatto un video sulle novità di essence e antonella di fare e disfare che anche lei aveva fatto vedere qualche prodottino mi sono fatta tentare e anche io ho approfittato ho acquistato adesso vi faccio vedere il paccozzo vedete su mequillalia si dice correggetemi penso si dica così ma non sono sicura comunque vi ho fatto vedere il marchio poi vi lascio tutti i riferimenti giù nell'info box e oggi spacchetto con voi perché l'ho comprato mi è arrivato quasi due settimane fa no due settimane fa no però adesso volevo provare anche a usarli ma non li ho non li ho ancora non li ho ancora usati per farveli per farveli vedere quindi proprio uno spacchettamento veloce tranquillo anche perché non conosco i prodotti non vi so dire io mi sono fidata di elisabetta perché trovo i suoi video sempre molto precisi e molto sincera oltre che ad essere bravissima essence è una marca che io conosco praticamente ho tantissimi rossetti uso il solito mascara che è l'unico che mi piace che utilizzo insieme a quello di clinique e quindi niente mi sono fidata di queste due mie amiche so di essere in buone mani per i loro consigli e quindi vi mostro molto liberamente quello che ho comprato allora poi vi dico anche i prezzi io ho approfittato di uno sconto che mi era arrivato dal sito perché avevo già fatto un acquisto e ho approfittato per i prodotti per occhi perché c'era il 3x2 quindi il terzo prodotto poi non lo non lo pagavi quindi ben venga ben venga allora la prima cosa che vi mostro non le apro perché sto già finendo delle creme e poi non se se mi scadono mi mi spiace quindi poi quando le avrò in uso ve le farò vedere allora questa è una adesso vi dico mousse per viso una crema viso una crema anche lo consigliano come crema base sotto il trucco una mousse molto leggera molto così molto fresca da poter utilizzare adesso arriva l'estate sicuramente con la mia pelle avrò bisogno comunque di creme più più leggere più così più magari più idratanti ma meno grasse e allora ho approfittato e siccome sto finendo la mia crema la mia crema base sotto il trucco ho pensato di prendere questa non è l'unica che ho potete immaginare che ce ne sono anche delle altre ma fa niente allora questa è così vediamo se riesco a darvi qualche informazione qui dice se c'è la ok crema leggera idratante per il viso con una texture non appiccicosa e la consistenza di una mousse base perfetta sotto il make up e questa l'ho pagata adesso ve lo dico crema crema viso allora che si chiama stico intorno vediamo se lo trovo crema idratante crema viso magic all one è questa no anzi qui dentro sulla banana vuol dire che ci sarà dentro sarà il profumo di banana oltre che al colore di banana maschera viso crema viso sarà questa no non è questa vediamo o crema viso allora 4 e 99 ecco scusate l'attesa ma 4 e 99 avevo visto dal video di di elisabetta che ne parlava molto bene era proprio molto soffice molto spumosa mi ha attirato quello oltre che il colore giallo poi anche di questo sentito parlare di elisabetta e questa è una bb cream e crema colorata crema idratante colorata colorata idro hero 24 ore io ho preso il colore 05 che non era tra era forse il secondo in linea di colore il primo mi sembrava veramente troppo chiaro adesso ve lo faccio vedere è una bb cream che si sente è molto in questa la apro perché non ne ho più di bb cream molto idratante e poco colorata ma arrivando l'estate io riesco a tollerare pochissimo il fondo tinta adesso qua si vede un po specchiato ma comunque il colore questo molto naturale mi è piaciuto sulla pelle si sente proprio morbida molto idratante penso sia perfetta per per l'estate e questa l'ho pagata anche questa 4 e 99 ed è questa poi altra crema e anche questa l'ho vista in azione sempre sul video di elisabetta ea lei va bene a una pelle molto più bella della mia ma l'effetto che dava era veramente di levicatezza sul viso ha delle adesso vi leggo è praticamente si uniforma al vostro incarnato adesso vediamo se trovo la traduzione ok crema viso multifunzione prova questa crema viso multifunzione che come per magia donerà al tuo incarnato un aspetto sano in pochi secondi la formula contiene pigmenti che si adattano a tutti i tipi di carnagione e offrono una copertura leggera conferisce alla pelle un colore impeccabile e un effetto opacizzante oltre ad essere dotata di un'azione idratante e di un fattore di protezione solare spf 10 che male non fa arrivando l'estate comunque io sto già utilizzando le spf 50 l'ho vista anche in un video di giulia cova che l'ha trovata ottima per essere un prodotto low cost e lei la utilizza come base per il per il makeup anche questa la apro vediamo se non c'è la cartina vi faccio vedere ok questa è la consistenza ecco cambia veramente colore che bello mi piace profumata vedete prende proprio il colore del nostro ph della pelle bella mi piace adesso farò la prova e finalmente potrò utilizzarle questa vediamo crema viso magic costa anche questa 4 e 99 esatto e queste poi ho preso questa che è una maschera notte sto quasi finendo la mia questa è una maschera notte è sempre della linea hello good stuff sleeping mask idratante per la notte con il profumo di lavanda l'estratto di lavanda che si sa l'olio essenziale di lavanda aiuta a rilassare e a così aiutarci nel nostro sonno il 96 per cento sono di ingredienti naturali e questa vediamo maschera viso notte 4 99 costano praticamente tutte uguali sono bellissimi i pack mi piacciono mi piace tutto e poi vediamo se di maschera abbiamo solo il trucco vabbè questo è true ah per il viso abbiamo questo allora vitamin bomb face serum con vitamina b5 più niacinamide per la mia pelle grassa la niacinamide è una manna e quindi questo sarà da provare anche questo ha un questo non lo apro a un mi sembra comunque molto leggero leggero vediamo cosa ci dice è scritto ah no è scritto in italiano va bene siero vitaminico con un ah no è scritto in spagnolo adesso lo traduco siero vitaminico con un complesso vitaminico di vitamina b5 e niacinamide illumina la pelle e minimizza le imperfezioni e regala a la pelle un aspetto sano o tradotto dallo spagnolo sicuramente sempre sempre più facile che che dall'inglese dunque questo che è il siero nutriente costa 4 99 direi che i prezzi sono abbordabilissimi e se la qualità è quella degli ultimi prodotti che ho provato benvengano questi prodotti lo costa che sono direi più che ottimi poi prima di passare a sì sì no ma potevo potevo secondo voi lasciarmela lasciarla lì potevo io che sono amante della mist all'anguria ho preso questa calm e clear with 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 camomille camomille tè verde e t3 è sempre una mist questa volta un po' più purificante e rinfrescante e la userò come come ho usato quell'altra l'anguria anche questa vediamo mi pare che sia 4 99 vediamo se non sbaglio spray viso spray viso ah no di meno 379 379 per 100 ml penso sia no vediamo eh sì ma più piccolo no 50 ml buonanotte sognatori 50 ml 3 e 79 ma lo sanno che ci sono delle persone di una certa età che acquistano e non vedono niente va bene adesso mi è rimasto tutto quello che è make up e cominciamo ero talmente presa dall'acquisto che ho comprato questi persino doppi perché ho sbagliato colore siccome non ci vedo manco se sono scritte in grande le cose e allora uno l'ho regalato alla mia collegalella allora questi sono dei burri cacao dei balsami labbra adesso ve lo dico allora ecco di qua allora sì balsamo labbra questo è al profumo di anguria no vabbè ragazze è spaziale allora io non metto tantissimi rossetti mi piacciono di più quei balsami colorati anche perché le mie labbra sono rimaste danneggiate da piccola io praticamente fino a quando mi sono sposato forse anche dopo fino a che ho avuto i figli avevo tipo 4-5 herpes al mese sulle labbra e mi hanno lasciato delle cicatrici piccole ma delle cicatrici quindi io con i rossetti boh mi sembra che sbavino che non siano a posto e adesso vi faccio vedere anche che cosa ho comprato per rimediare a questa cosa e allora preferisco mettere dei balsami o comunque dei lip gloss colorati che vabbè un po' rimangono poi poi mi piace di più il burro cacao questo ha un profumo di anguria che è delizioso e neanche colorato sì proprio ma un velo si vede sì potevo fare facciamo che faccia un altro braccio in caso sono un po' ritardata vediamo se di qua si vede bene sì ha proprio no ma non si vede neanche ha un colore trasparentissimo praticamente ha un cuore bianco all'interno vedete eccolo lì molto molto idratante e il profumo è paradisiaco e di questo invece ne ho comprati due perché è come una cretina ma anche ho guardato il carrello dopo perché quando faccio gli acquisti sono così sono un po' in ipnosi non mi accorgo neanche di quello che compro questo è leggermente più colorato facciamolo sempre di qua così vediamo sì ma proprio un colorino vedete proprio e va bene per l'estate a me vanno bene questi colori mi mi piace così poi ah questi li ho pagati una stupidata uno 1,99 mi pare sì 1,99 poi ho preso anche un un primer esatto un primer in gel io lo utilizzo sempre il primer perché con la mia pelle altrimenti rimane veramente poco niente ora che arrivo a sera non faccio mai dei trucchi molto pesanti non stratifico mai il come si dice il fondotinta anzi allora all'inizio mi spalmavo il fondotinta con le mani poi guardando tutti i video delle persone brave ho cominciato a stendermelo col pennello ma alla fine sono poi ritornata con le mani e rifinisco con il pennello perché mi sembra che mi dia un tono più naturale io non faccio grandi trucchi non stratifico assolutamente anche perché avendo poi comunque la pelle misto grassa la sera se sono in casa non so alle 5 alle 6 mi strucco e mi faccio la skin care quindi non mi piace avere quell'effetto mascherone non ho più neanche l'età non l'ho mai fatto prima ma comunque è una sensazione che non mi piace ci sono in giro tantissime ragazze tantissime donne che si truccano benissimo ma io non sono tra quelle insomma e quindi ho sempre bisogno proprio per la mia lucidità di pelle di avere un primer adesso ne sto usando due di revolution che mi piacciono molto e ho detto vabbè prendiamone uno di scorta e lo teniamo questo si non si vede assolutamente niente perché è scritto oltre che piccolo qualcosa trasparente vediamo è idratante make up e no no non si vede proprio non è neanche scritto in italiano vabbè comunque è un primer idratante e rinfrescante vediamo non ha alcol e non ha siliconi questo l'ho pagato primer 4,99 e siamo sempre lì su questi prezzi e ora veniamo ah no c'è ancora una roba prima del trucco sempre da Elisabetta avevo visto questo stick da utilizzare sugli occhi uno stick idratante e ho voluto provare è comunque un tocco molto asciutto lo volevo per gli occhi non si sempre meglio l'altra mano oggi non sono non sono preparata ragazzi però fa niente dai come se fossi vostra sorella si stende non si vede assolutamente ha un tocco comunque molto molto asciutto e anche questo l'ho pensato per l'estate Hydro Hero poi non vedo cosa c'è scritto ma vi pare? allora vediamo vediamo un po' stick contorno occhi idratante Hydro Hero 3,59 stick idratante per il contorno degli occhi applicare il balsamo prima di mettere il maquillage questa è l'unica cosa che sono riuscita a tradurre però vabbè penso che sia ed è questo adesso veniamo ai prodotti di makeup che non sono tantissimi come vi stavo dicendo ho voluto provare adesso dovrò andare a vedere qualche video per come si per come si mette ho voluto provare a prendere delle matite questa vela swatcho si dice così swatcho vediamo questo è il colore adesso ve lo dico è il colore 25 lovely ecco i toni dei miei rossetti sono praticamente sempre più o meno di questi tre colori magari un po' più scuri un po' più chiari però avrò tipo 30 rossetti 30 gloss 30 buri cacao colorati sono tutti di questi colori e per la maggior parte sono di essence mi piace perché sono molto morbidi molto idratanti rimangono per qualche ora sulle labbra che è quello che va bene a me non mi serve altro però ho voluto provare a prendere delle matite per dare una definizione più carina le labbra vediamo se riesco a se riesco ad utilizzarle perché non è che sono molto precisa quando disegnavo al liceo artistico a Manolibra ero brava adesso ho perso ho perso il tocco quindi questa è la numero 25 mi piace molto un bel colore un rosato questa è la numero 02 happy bella anche questa scrivono abbastanza abbastanza morbide non morbidissime non so non ho mai avuto delle matite per le labbra quindi è così e questa è più sul tono del marrone magari più invernale ma neanche perché guardandola bella bella anche questa e questa è la numero 203 my advice mi piacciono tutti e tre sono comunque i toni che io utilizzo e questa è la matita prende fuoco si prende fuoco si prende e a fuoco prende fuoco a parte che col sole di oggi qui ci sono stati anche parecchi incendi sul lago il vento era molto molto forte bene poi ho ripreso ovviamente il mio è praticamente terminato lo sto proprio finendo il mio mascara che ho da una vita va veramente da una vita utilizzo sempre questo Lush Princess è buono mi trovo bene non è waterproof non mi piacciono quelli waterproof perché poi mi sembra che mi si impassino mi fanno i grumetti quindi nulla poi grazie alla mia amica invece Anto ho preso ben due non uno ben due lei ne ha presi quattro io siccome non l'ho ancora utilizzato non so se mi piace sono andata in fiducia e ne ho presi due volume booster Lush Primer Lush Primer per le ciglia non ho mai utilizzato un primer per le ciglia voglio provare lei dice che si trova veramente molto bene io li ho trovati e li ho presi subito vediamo cosa come sarà l'effetto allora non vi ho detto il costo delle matite il costo delle matite è una una stupidaggine una stupidaggine allora matita 1,29 cioè capite bene che se poi anche se non mi piace la regalerò per 1,29 euro si può fare anche se non sono capace di applicarmela mentre i primer anche queste allora due costano 3,58 facciamo che sia 3,60 cos'è 1,80 mi sembra pochissimo se funzionano come dice l'anto direi che possiamo farne scorta poi sempre su consiglio di Antonella anche qua di blush io ne uso proprio pochi ne ho qualcuno uno di Kiko ne ho presi sì uno di Kiko in stick che mi piace tantissimo e ho forse una palette di Revolution perché le mie palette sono solo ed esclusivamente Revolution come costo mi va benissimo non ho grandi esigenze anche se ho visto l'ultimo video delle sorelle fantastiche le Martinos che mi hanno fatto venire una voglia di prendere quelle palette tutte colorate io ritorno ai tempi di scuola il colore lo focalizzo proprio come gli anni che ho vissuto al liceo io ho fatto il liceo artistico e quindi tutto quello che è colorato mi vengono in mente praticamente tutte le cose che utilizzavo tempere gli acquarelli poi c'erano adesso non mi ricordo più neanche come si chiamano non so neanche se esistono più perché Lucia che fa liceo artistico queste cose non le fa però tutto quello che è colore arte è gioia e quindi quando ho visto quelle palette lì mi è venuta una voglia di comprarle poi non le utilizzerò mai perché i miei colori sugli occhi sono i rosa i marroni i nude basta non sempre il verde qualche volta ma vado più con le matite col verde che magari con gli ombretti perché sennò poi mi vengono gli occhi da da pesce vanda no e quindi così però sono belle solo anche da vedere insomma i colori mi attirano sempre e vabbè torniamo noi e quindi ho comprato questi due blush questo è il numero adesso ve lo dico è il numero 10 e si chiama non vedo neanche cosa c'è scritto allora blush bifitting spero che si dica così il colore è un 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 rosa antico con magari un adesso ve lo sguaccio qua ecco a me non piace avere le guanciotte tanto colorate perché poi ho già sono cicciottella di mio e quindi ve l'ho messo dove c'era il si vede che non sono pratica di fare queste cose vediamo se lo mettiamo di qua ecco il colore è un po' è un po' meglio è molto molto delicato e comunque io non non vado mai sui colori molto forti di solito appunto il mio trucco non lo si vede quasi manco quando lo metto il blush questo è ancora più chiaro questo è un più un cipriato ecco mi vengono in mente le guance della mia nonna colore che metteva la mia nonna sulle guance non so che cipria fosse questo proprio più ma non si vede neanche qua nella camera perché poi c'è e questo è così ed è il numero proprio come il colore in camera questo è più cipriato quell'altro più sul rosato con una punta di geranio non lo so ho fatto lice artistico ma non so le composizioni e questo è il numero 90 bedazzling io ve lo leggo come lo quindi sono poco differenti c'è una differenza questo è più più scuro vedete e questo è così beh mi piacciono poi vi saprò dire poi 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 ecco sempre questo non ricordo se l'ha consigliato qualcuno o se l'ho preso di mia spontanea volontà questa è una matita in cera colorata per le sopracciglia io le sopracciglia me le faccio da sola con un aggioggino che mi ha regalato la mia collegalella praticamente un piccolo rasolietto elettrico che gira e strappe peletti mi vengono benissimo vanno bene io le rifinisco soltanto perché ho proprio due o tre punti dove non ho questa è una matita in cera del mio colore se facciamo perché non la giro ma sono proprio deficiente vedete del mio colore delle sopracciglia che è un biondo scuro vado proprio a rinforzare il punto dove non c'è e poi questo che mi pare avesse consigliato ma non sono sicura sempre Elisabetta io l'ho preso nel mio colore adesso non guardatelo perché è nuovo io non l'ho ancora utilizzato quindi è pienissimo di prodotto è un pennellino vedete e si va a vediamo se riusciamo a metterlo sulla mano ecco si va proprio a si disegna benissimo ho sentito il telefono sarà la rinella che mi sta cercando adesso aspetta anche lei un attimino perché altrimenti qua non riesco a fare le cose dice che ha una durata per 72 ore ah non vi ho detto i prezzi del blush il blush il blush il blush costa 2,99 euro mentre questo che è per le sopracciglia costa primer per no mamma mia gel per sopracciglia brown blonde 4,89 ed è così 4,89 invece la matita in cera allora vediamo matita di cera per sopracciglia prezzo 0 vuol dire che ah perché era era il 3x2 quindi questa io non l'ho pagata ve l'hanno regalata a cabello ultimo ma non ultimo perché secondo me è la cosa più bella mi sono fatta tentare da questa palette che mi piace tantissimo di Catrice anche Catrice è un un brand che mi piace tantissimo per il trucco nelle palette perché sono molto molto buoni e il prezzo è veramente molto limitato adesso io ve la faccio vedere così perché con lo specchio ovviamente si chiama menta e il cioccolato no è hint of mint che mint so che è menta hint non saprei cosa dirvi però a me ricorda cioè io l'ho comprata perché mi ricordava il frappè alla menta e al cioccolato e poi perché non avevo questa combinazione di colori ho sempre i rosa i marroncini i violettini tutte queste cose questa andava un po' fuori dalla mia comfort zone ve ne swatcho dici così qualcuno questo verde che mi piace da morire dopo ve lo posso sbocciare qua si vedono poco allora io non sono capace di fare queste cose ragazze non le ho mai fatte poi comunque lo vedete sembrano abbastanza scriventi quel verde qui è meraviglioso adesso ve li metto qui vediamo se si vedono un po' ma vi ripeto non ho mai fatto queste cose quindi vediamo che imbranata ragazzi che sono non si vede un caso sono proprio imbranata come faccio a farveli vedere si va bene qualcosa si vede ma oppure vediamo questo che non so come farveli vedere come faccio a farveli vedere che imbranata che sono vabbè dai perdonate questo video del caso si vedono ma quelle brave come fanno devo guardare un video comunque ve li farò vedere ecco di così sono proprio una capra vabbì i colori sono proprio bellissimi e questa l'ho pagata è la cosa è la cosa dove è Catrice 11,99 quindi durerà 75 anni va bene dopo questo video veramente oscino sulle capacità della Eli di farvi vedere gli swatch dei prodotti vabbè migliorerò questo è il primo video di make up perdonatemi io vi ringrazio vi saluto se siete arrivati fino a qua siete stati bravissimi perché sono stata pessima oggi ma non riesco a rifare il video quindi ogni tanto ci sta che magari uno topa anche un attimino sulle cose pazienza adesso vi dico che fuori c'è una bellissima giornata e io vado in pista ciclabile a farmi una passeggiata perché ci vuole movimento movimento e quindi lascerò a casa le sigarette ovviamente devo cercare di fumare anche di meno io vi ringrazio vi saluto vi abbraccio vi auguro una buona settimana e spero di fare un nuovo video presto non so bene su cosa vorrei fare ci sono 4 dei terzi di che ho provato e che secondo me sono fantasmagorici magari vi faccio un video molto molto breve e ve li faccio vedere bene bella gente buona giornata buona continuazione e ci vediamo presto e grazie per essere arrivati fino a qui e scusatemi per la mia incompetenza su queste cose ma migliorerò prometto che migliorerò ho ancora un po' di tempo ciao e grazie e grazie a tutti